Davvero non ti aspettavi di avere 5 punti dopo le prime due giornate del Mondiale? Se dico che aspettavo sarò bugiardo, speravo di giocare bene perché la qualità abbiamo ma 5 punti no. Sono veramente molto contento perché siamo riusciti a vincere questa partita difficile dopo vantaggio 2-2-0 sembra che ci siamo un po' spenti ma questo come dicevo prima è una mentalità nostra, iraniani, hanno sottovalutato secondo me un paio di giocatori che sono entrati e che hanno sostituito il loro allenatore. Abbiamo cominciato a ricevere male e dopo è diventata tosta perché l'America è molto disciplinata al muro e hanno due attaccanti di pala alta veramente di altissimo livello. Però l'Iran sta giocando molto bene, riesce a giocare con tanta intensità, molto bene in difesa, in recessione. Quando riesce a giocare fa veramente anche il gioco, che impressione. Non dimentichiamo che oggi purtroppo per un piccolo infortunio non ho avuto il mio posto che avanti ieri con l'Italia ha messo un paio di palle pesanti. Abbiamo visto Gafuri in un momento un po' più stanco che è normale, tutte palle difficili andavano da lui e forse mi mancava di fare ancora un risultato più buono, mi mancava quel doppio cambio che contro l'Italia andava molto bene. Per questo mi dà la fiducia che anche in futuro possiamo fare qualcosa di più e essere molto più incisivi. Hai paura adesso che questi risultati facciano volare troppo i tuoi genitori, i tuoi giocatori? Sicuramente questa è una cosa che devo essere molto attento perché secondo loro per alto livello sono americani e italiani, forse un po' meno francesi e belgi. Loro non lo sanno come pallavolo forte. Ieri sono stati impressionati dopo il risultato 3-2 di belgi contro americani. Questi sono buoni e devo essere bravo di farli capire che ci aspettano partite difficilissime e che se vogliamo vincere dobbiamo ripetere questa intensità e questa qualità di gioco. Dal tuo punto di vista non è normale che tu dica che l'ultima palla era toccata, quindi era contro di te? Di solito non si fanno queste cose? No, ma in senso che veramente relazioni con americani sono fantastiche, sono molto onesti, molto bravi. In senso io veramente non ho visto bene la palla ma quelli che hanno visto adesso che hanno toccata. Per questo purtroppo neanche i videocheck qualche volta fa qualche errore ma sicuramente ci aiuta tutti tanto. Per questo lo sai sono veramente felice che abbiamo vinto, penso che potevamo vincere anche senza questa palla perché eravamo sempre in vantaggio, 3-4 punti, abbiamo fatto qualche errore in più alla fine ma oggi come oggi in generale abbiamo giocato meglio di loro. A Teheran adesso l'entusiasmo sarà le stelle? Ma veramente questa è l'ultima cosa che penso, in senso che penso cosa faccio stasera, domani come li faccio riposare e come devo preparare la partita contro Francia perché è un'altra partita molto importante e penso che adesso abbiamo cominciato bene, abbiamo qualità di non fermarci.